Bentornati sul mio canale, come vedete qui al mio fianco, oggi produrremo una slitta dritta. La slitta dritta serve per fare dei tagli precisi e anche per fare dei tagli in sequenza se dovete fare più tagli. Questa slitta mi servirà per dei progetti che ho in mente di fare. Se vi ricordate settimana scorsa abbiamo prodotto una guida in alluminio, sempre per il nostro banco sega della Parkside, visto che quella originale non era all'altezza della situazione e vi avevo detto che ci voleva una mezz'oretta di tempo per produrla. Ecco, non è il caso della slitta dritta, visto che io ci ho messo 6 ore, quindi più di una mezza giornata per produrla. Ma comunque vi consiglio di costruirla perché è molto comoda per chi si affaccia al mondo dell'obbistica. In questa guida vi farò vedere come si assembla e come si taglia. È una guida bene, ora partiamo con il video, spero che vi piaccia. Ciao! 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 Grazie per la visione 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 Grazie per la visione